Mamma mia capocce, mamma mia capocce, quante situazioni spinose dovrà gestire la nostra squadra mercato in questa estate che sarà sicuramente un'estate folle, sarà sicuramente un'estate pazza, sarà sicuramente un'estate con tante cessioni e tanti arrivi Detto questo, prima di iniziare con l'argomento del giorno, chi segue questo canale del giorno uno lo sa è un argomento su cui mi sono esposto in prima persona, continuo a mandare avanti la mia tesi quindi aspetto da parte vostra molti commenti sicuramente per capire cosa ne pensate rispetto a quello che è il mio modo di vedere le cose non fatemi mai mancare il vostro supporto, quindi like al video, commentate, condividetelo con gli amici iscrivetevi al canale, raggiungiamo i 1000 iscritti nel minor tempo possibile, ci siamo quasi detto questo, vorrete anche iscrivervi a canali amici come Dovebet e Yosip Yosef con cui condivido l'angolo rosso-nero ogni martedì mercoledì alle 17.30 ragazzi, sono due giocatori di cui vi parlo oggi, due giocatori che per un motivo o per un altro reputo due giocatori che hanno vissuto l'annata tribolata il primo è la questione forse un po' meno spinosa perché l'abbiamo pagato meno sicuramente un giocatore che è rimasto un anno in prestito alla squadra in cui è stato acquistato parliamo di Yasin Adli ragazzi, un ragazzo che mi fa una tenerezza, ma una tenerezza enorme io non ricordo un calciatore così poco considerato ma così tanto legato all'ambiente rosso-nero lo spogliatoio rosso-nero, addirittura due giorni fa organizzato a casa sua una cena a tema Milan invitando tutti i compagni di squadra per fare il gruppo in vista della partita con la Juve soprattutto un giocatore considerato all'interno dello spogliatoio vedo i giocatori lo taggano nelle storie, escono con lui comunque non è un ragazzo emarginato, emarginato come magari poteva essere Paquetà perché poi Paquetà sappiamo che non ha legato con nessuno dello spogliatoio era sempre a casa a giocare, soffriva di una forma di depressione perché poi quando ha chiesto la cessione ha presentato un certificato medico dove su queste cose poi non si scherza mai, quindi lì il Milan alzo le mani però ecco, io ricordo sempre un Adli sempre in prima linea quando c'è da parlare con i tifosi a Milanello quando i tifosi vanno a incoraggiare la squadra ispiegabile, ispiegabile come il nostro mister Pioli non l'abbia mai considerato quest'anno ispiegabile perché è sempre stato tra i più positivi è sempre stato tra i migliori durante le migliori estive è sempre stato tra i migliori quando è stato chiamato in casa in campo ricordo un Adli che entra contro la Fiorentina e fa un tracciante meraviglioso ragazzi, quel passaggio quest'anno non l'ha fatto nessuno del Milan che praticamente spiana la strada a Selmeker che poi farà l'assist a Ternandez per il gol della bandiera un giocatore che nel modo di giocare del nostro mister Pioli vedrei benissimo quella mezzala barra trequartista che lui cerca perché è un giocatore Adli che potrebbe fare il celanoglu in ovviamente con caratteristiche diverse perché è un calciatore che copre campo, è un calciatore che non è che non corre è un calciatore che corre e che copre campo non è velocissimo ma neanche Cernandoglu è veloce no? meno balistica ma ha più genio e sdregolatezza, più follia da parte di Adli ecco, in un 4-3-3 obiettivamente io Adli e Rosa lo terrei però sapete come la penso io no? noi possiamo essere i tifosi, possiamo avere tutte le opinioni del mondo ma noi cosa vogliamo? il bene del Milan no? dovesse rimanere Pioli, ormai rimarrà Pioli Pioli non vede Adli, amen cosa farei io con Adli? ragazzi lo darei in prestito in Serie A non lo voglio, non me lo voglio elevare subito lo darei in prestito in Serie A perché secondo me Adli può dimostrare di essere un calciatore importante è stato pagato mi sembra 8 milioni più 1 di bonus perché poi volevano 12 milioni e ce l'hanno scontato perché lo abbiamo lasciato praticamente in prestito gratuito un anno là dove fece comunque un'ottima stagione una stagione difficile lui fu uno dei migliori una stagione che vide poi alla fine la sua squadra Bordeaux retrocedere si parla di squadre interessate in ottica Serie A e in ottica Ligue 1 in Serie A lo vuole la Salernitana di Paolo Sosa un allenatore che sta dimostrando un ottimo calcio a Salerno un allenatore che Giallo ha allenato che stravede per lui dei tempi del Bordeaux e secondo me potrebbe essere un'ottima squadra per Adli anche insieme a Lecce so vedo due squadre ottime per far emergere il suo talento cosa fare con la Salernitana ragazzi? la Salernitana ha due giocatori molto interessanti ma zocchi utili per le liste utili perché può fare sia il terzino sinistro che il terzino destro sul role naturale mi piace molto la Salernitana Buleidi A si potrebbe dare magari Adli in prestito con prestito con diritto di riscatto e contro riscatto magari prestito con diritto di riscatto a 13 contro riscatto a 15 come prima valorizzazione per Adli stessa cosa per Mazzocchi al Milan ovviamente si parlerà di cifre più basse per lui però ecco noi ci assicuriamo un'ottima alternativa dato che dobbiamo sostituire Dest che partirà e il Milan non può stare con Calabria e Florenzi a destra dobbiamo capire cosa fare con il povero Calulu che non può sempre spezzarsi in due ruoli tra centrale e terzino magari cerchiamo di modellare un po' di più questo ragazzo che ha qualità importanti mi dispiace tanto per Adli ma questo è quello che farei anche perché il Milan dovrà fare tante cose seguiamo la linea dell'allenatore CDK questa è una CDK ragazzi chi mi conosce lo sa dal primo giorno mi sono espresso a favore di CDK ho fatto il video di presentazione un video di presentazione dove ho già detto ragazzi non ci aspettiamo che CDK arriva e vi stravolge una squadra è un giovane è un investimento a lungo termine d'altronde come si è sempre espresso il nostro Paolo Maldini CDK è uno di quei giovani che rientra in quella categoria del giovane acerbo il giovane che tu compri magari con un anno due anni di anticipo perché fosse rimasto al Bruges avesse fatto un'altra stagione incredibile come quella che aveva fatto non lo prendi più rientra poi in un'elite di giovani che vale 50 milioni 45 milioni dove tu alzi le mani e poi lasci fare le altre squadre lasci fare la Premier League lui era ancora al limite di una cifra che il Milan era disposto a spendere quindi lo abbiamo preso l'abbiamo preso io ovviamente non mi schiero totalmente alla parte del ragazzo e dico no lui non ha colpe ragazzi lui ha la sua dose di colpe perché comunque poi a un certo punto ha mollato di testa completamente diverso da Adli no Adli è uno sanguigno Adli è uno che non è stato mai considerato non è stato mai calcolato ogni volta che entra in campo sputa sangue da tutto quello che ha lo vedete chiede palle si vuole fare vedere vuole far vedere poi ha torto ragione sbaglia fa cose positive ha sempre fatto cose positive però è quello che si vuole fare vedere si vuole fare notare lui a un certo punto era così ha fatto le prime 5 partite ottime le ricorda ancora contro il Bologna contro l'Udinese contro l'Inter dove nonostante l'errore in marcatore su Brovedo vince fu un'ottima partita contro il Napoli proprio presente si vedeva chiedeva palla passaggi ottimi dopo si è spento si è spento e qui c'è la dose di colpe da dare all'allenatore per una gestione scandalosa perché non siamo tutti Hulk a livello caratteriale non siamo tutti forti soprattutto ai giovani ai giovani basta veramente poco per deprimersi e secondo me la gestione di Piore è stata scandalosa perché nel momento in cui il calciatore per le 5 partite fa bene poi fa un errorino viene dimenticato viene messo gli ultimi 10 minuti gli ultimi 15 minuti poi viene messo titolare quando la partita per l'allenatore non conta nulla insieme a 9 riserve e da qui praticamente dalla decima giornata di campionato dodicesima è stato questo l'andazzo della sua gestione addirittura nell'ultima partita con la Sampetoria non viene messa in campo per una partita perfetta per farlo sbloccare ma non al 72esimo quando la squadra vince 5-1 e ormai i calciatori cazzo gli è che frega più di attaccare di far segnare il CDK con tutto il bene che gli possono volere magari farlo entrare al 55esimo al 58esimo partita in ghiaccio dai la possibilità anche che me lo metti al posto di Giroux ecco anche che me lo metti in punta ma fallo giocare fallo giocare secondo me è stato un gigantesco errore la gestione di CDK condita anche dalla sua mancata cattiveria ora io non voglio farvi gli stessi esempi perché molti di voi che mi seguono magari sono più piccolini di me hanno 20 anni e non si ricordano l'escalation di De Bruyne tutti pensano ma è pazzo quello paragone ragazzi De Bruyne al Chelsea non sapeva palleggiare neanche con le mani venne venduto titoloni Chelsea affare dell'anno venduto un pacco colossale a 25 milioni al Wolfsburg ora vi faccio un esempio per i più giovani Mudrik del Chelsea comprato 100 milioni dallo Shakhtar non li valeva manco poteva valere 40-50 milioni ragazzi 17 partite in Premier 0 gol un assist ora vuoi mai che sia scarso questo giocatore è fortissimo ragazzi basta vederlo 30 secondi per capire che è un calciatore forte ha avuto problemi di ambientamento in una squadra dove tutto sta girando male per CDK sicuramente sarebbe stato più semplice inserirsi nell'anno dello scudetto dove tutto gira bene purtroppo quando tutto gira male quando si è attaccato ai risultati quando la squadra entra in un loop negativo l'allenatore pure entra in confusione magari cerca affidamento fa affidamento ai suoi fedelissimi e allora praticamente si dimentica totalmente di rischiare per un giovane questo è successo con CDK cosa farei con CDK ragazzi io non lo venderei non lo venderei lo terrei squadra siamo sempre d'accordo che a patto che Pioli voglia recuperarlo voglia farlo giocare sia convinto di trasformarlo in quel trequartista muscolare che lui vuole perché ecco ragazzi CDK a tutto stessa altezza di Milinkovic Savic il fisico un po' più mingerlino un po' più agile ciò non toglie che plagiato plasmato possa essere quel giocatore importante del futuro a quell'età ragazzi può diventare tutto il contrario di tutto ci sono stati esempi di calciatori che sono partiti a giocare trequartisti sono finiti a fare i terzini e viceversa questa è un'età dove praticamente tu è importante molto importante le persone di cui ti circondi è molto importante gli allenatori che incontri durante la tua carriera secondo me ecco io non lo venderei a patto che dovesse glorificarsi una situazione in cui il Milan vuole prendere Milinkovic Savic e lì sarebbe una svolta nel programma societario nel progetto e mi dicono ragazzi miei l'unico motivo l'unico modo per prendere Milinkovic è vendere De Ketelare arriva la squadra di Premier che ti dà 30 milioni 35 milioni e allora lì tu veni messo davanti una 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 scelta difficile ecco però ragazzi pur sapendo che davanti questa scelta la cosa migliore da fare per vincere lo scudetto per essere più competitivi possibili l'anno prossimo e prendere Milinkovic e vendere CDK pur sapendo che però tenetevi pronti a mangiarvi le palle con ambo le mani stesso discorso lo feci per Paghetà ragazzi noi lo stiamo dando Paghetà Paghetà è fortissimo Paghetà aveva fatto sei mesi mi ricordo viene dal Brasile dopo due giorni di allenamento titolare subito messo da Gattuso mezzala perché era una mezzala io ho sempre detto mi ero incazzato da morire facendo il fantacalcio quando me lo misero solo T giocando col mantra proprio fatto da gente da persone che non guardano non manco lo conoscevano Paghetà perché per metterlo T solo T devi veramente avere qualche problema il ragazzo poi è diventato una delle meziali più forti e complete che ci sono valore di 50 milioni migliore del campionato francese per tre anni di fila venduto in premier tutti eh chissà che farà in premier ora lo affosseranno col fisico ragazzi sta facendo anche lì la differenza in una squadra che comunque non è fortissima quindi capite siamo di fronte a scelte difficili siamo di fronte a scelte complicate sicuramente dipendesse da me qualora il Milan perché parliamoci chiaro secondo me Milinkovic rimarrà un sogno che ci accompagnerà per tutta l'estate rimanendo sempre un sogno io farei di tutto per recuperarlo se prendessimo Kamada zero sarebbe perfetto per me farlo studiare da Kamada quindi mettere Kamada CDK come coppie di trequartisti sulla destra avere un esterno destroforte con dietro un Brian Diaz e poi possiamo anche tenerci un Selma Gary in più però ci sono tante cose da fare tante persone da dare farò prossimamente un video dove il mercato che farei l'ho già detto andando a in qualche modo seguire quello che è il progetto della società stando proprio con la calcolatrice in mano per rispettare il bilancio i calcoli gli ingressi le cose le minchiatelle facciamo una cosa quanto più credibile possibile fatemi sapere cosa ne pensate voi qua sotto di questi due calciatori cosa fareste con entrambi mi raccomando esprimete il vostro parere nel massimo rispetto accetto tutti i pareri anche i più contrastanti purché vengano espressi con la massima tranquillità mi raccomando like al video commentate condividetelo con gli amici iscrivetevi al canale bella raga buon pranzo a tutti grazie a tutti